L'anticiclone subtropicale si espande dal Nord Africa a tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Aria molto calda di matrice nord-africana tenderà a risalire sulla penisola iberica, la Francia e su buona parte della nostra penisola, favorita da una circolazione depressionaria in quota situata ad ovest del Portogallo. Venerdì 17 giugno poco nuvoloso per velature in transito, nel pomeriggio addensamenti sulle zone interne con possibili brevi e isolati temporali più probabili su Amiata e colline metallifere, venti deboli da nord-ovest sulla costa, da nord-est nell'interno, mari poco mossi, temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento le minime, valori superiori alla media anche di 6-8 gradi, tassi di umidità in aumento. Sul territorio provinciale tempo sereno o poco nuvoloso. A Lucca e sulla piana minima 21, massima 34 gradi. A Castelnuovo e zone montane minima 20, massima 33 gradi. A Via Reggio e sul litorale minima 21, massima 28 gradi.